oggi 24 marzo 2022 vi voglio fare vedere cosa faccio durante il pomeriggio qui a scoglitti intanto la cosa che faccio è quella di controllare dove sono arrivati i lavori del lungomare di scoglitti sono ormai due anni che ancora deve finire questo lungomare diciamo che qualcosa si muove c'è qualcosa in più un fosso in più e del cemento in più da che ce la facciamo di solito prendo il caffè qui al caffè camerina quando ci sono le sedie perché mi piace il punto piace la veduta ecco la veduta il sole che batte insomma tutta un'altra storia senza affezza per nessuno perché sono tutti buoni qui a scoglitti i bar poi controllo controllo i lavori della piccola pesca qui non vedo movimento assolutamente niente ma ho fiducia a questa amministrazione che ci posso fare in questa amministrazione ho fiducia però ancora oggi a niente ma va bene un caffè normale grazie grazie dopo aver preso il caffè ci diriggiamo in piazza caur piazza caur alle 16 vuota naturalmente non c'è nessuno a volte mi siedo qui proprio qui in questo punto qui per ammirare questa bellezza guardate guardate e niente amici poi si fa l'orario vado a lavorare vado a aprire il mio negozietto ok questa diciamo è la giornata pomeridiana di solito che faccio io durante la settimana grazie per avermi guardato e vi ricordo di cliccare mi piace e condividerlo la